Guarda stava gettando il ramo di melo. Vai Ciccio, vai che se ne lo date oggi. Vai su dai! C'era il dauli? Certo. Lui ha detto niente, mi ha fatto i dispetti. Poi lì ho detto che un giorno finirà molto male. Non so, non so. 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 La vita è una cosa interessante, perché ho letto un articolo adesso sulle scienze che dice se noi vivessimo invece che con un sole come questo che abbiamo, con un sole come una stella blu. Di che colore sarebbero le piante? Guarda che è una domanda fondamentale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.